domenica 31 marzo città di castello ha ospitato il primo round dell'italiano quad cross sidecar cross e del tricolore motocross dove si sono confrontati i piloti rider ed expert la mx1 expert è stata la prima categoria a scendere in pista con un secondo e un primo dimanche la vittoria assoluta è andata a nicola dolce con fabio torsiello alle sue spalle visti i piazzamenti per lui invertiti e la discriminante della miglior posizione della seconda manche terza piazza nonostante un infortunio a una mano per luca pedica nella mx1 rider grandi prove di federico angelici e ivo lasagna quest'ultimo ha vinto entrambe le manche ma una penalizzazione rimediata alla prova fonometrica al termine della prima hit lo ha costretto a cedere il successo assoluto all'avversario terzo di giornata gabriele soverchia dominio netto di micol pacini con pole position e doppietta nella mx2 expert lazzeri ha conquistato per due volte la seconda posizione mentre con un sorpasso proprio all'ultimo giro capuccini ha strappato il terzo posto a di crescenzo Nella mx2 rider Antonio Giordano ha fatto su entrambe le manche con grande vantaggio sugli avversari secondo Manuel Baruffa davanti ad Arsenio Fausti meritevole soprattutto per il secondo posto in gara 2 di narcotrino rilasso 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 Tra i quad si è visto il cancelletto unificato per tutte le categorie con l'obiettivo raggiunto di aumentare la spettacolarità. Il vincitore del super mare quad cross Patrick Turrini si è confermato in gran forma con il successo di giornata. Il giovane pilota Ligure è stato tallonato da Simone Mastronardi due volte secondo, mentre Paolo Galizzi ha chiuso sempre terzo ma più distanziato. Ivo e Ivan Lasagna, campioni in carica e favoriti alla vigilia, si sono confermati al top nei sidecar grazie ad una vittoria mai messa in discussione. Due secondi posti per Bernardini Pasqui e due terzi per Mattoni Mencaroni.